Siamo tornati con Vincenzo e Mattias per due battute conclusive. È stata una giornata molto ricca e immagino che tutte le giornate e tutti i percorsi, tutte le assemblee, i momenti che questa carovana incontrerà saranno ricchi. Vincenzo, una battuta conclusiva anche sulle prospettive e sugli appuntamenti, anche per ricordarceli e ricordarli a tutti e tutte. Ecco sì, intanto quello che mi viene da dire è che quello che emerge ogni volta che partecipiamo ad un incontro del genere è la ricchezza di capacità, di sapere, di vissuto che ci accomuna. Cioè questa è una cosa che, come dire, rispetto ai movimenti territoriali ci dà una possibilità, una forza enorme se riusciamo a mettere questi saperi, queste conoscenze e anche questa disponibilità in qualche modo a mettere in discussione le forme di vita nostre e le forme di vita più in generale a cui siamo costretti. E se riusciamo a mettere in comune queste capacità, allora forse effettivamente siamo una parte di quel processo che può mettere in discussione l'esistente. Ecco, detto questo, ricordo brevemente le prossime tappe della carovana. Per quanto riguarda la carovana del Nord, il 14 saremo a Ravenna, dopodiché saremo a Bologna il 15, il 16 a Piacenza, insomma a relazionarci anche con i facchini in lotta rispetto alla questione ambiente logistica. Il 17 saremo invece ad Empoli, dove è in corso una lotta importante sull'inquinamento, uno sversamento nocivo nelle strade. Dopodiché andremo a Brescia, dove ci sarà un tour dell'orrore ambientale, insomma. Il 18, il 19 invece saremo a Pavia. Anche qui una tematica, come si diceva prima, che attraversa entrambi i piani, quella della crisi sociale e quella della crisi ambientale, e quindi casa e ambiente in questo caso. Dopodiché andremo ad Alessandria e la carovana, quella del Nord, si concluderà con la Due Giorni in Balsusa, il 21 e il 22. Andremo al Presidio dei Mulini a vivere, insomma, un'esperienza di lotta a contatto, da un lato con il cantiere, con l'adversità del cantiere, ma dall'altro lato anche con quelli che sono i boschi che difendiamo con il nostro cuore, i nostri corpi. Invece per quanto riguarda quella del Sud, ci saranno il 16, due tappe, che saranno quella di Cosenza e quella di Taranto. Insomma, quella di Cosenza sarà più declinata sul tema della salute. Quella di Taranto, insomma, è auto-evidente che invece riguarderà l'Ilva, il TAP, Snam. E per finire, invece, per quanto riguarda quella del Sud, arriverà a Napoli in occasione del G20 sull'ambiente. Detto questo, io vi rivolgo ancora alcuni inviti, così rispetto, da un lato al movimento Notav, dall'altro rispetto, insomma, alla dimensione più generale. Noi come movimento, in questo momento, abbiamo già in corso un campeggio giovani che inizierà domani. Dopodiché vi sarà il campeggio di lotta, all'arrivo della carovana, che sarà un campeggio in cui proveremo, insomma, nella tradizione del movimento Notav, anche a tematizzare tutta la questione del nuovo cantiere di Sandidero e di mantenere una certa pressione su quello invece in clarea. Dopodiché vi sarà il campeggio di ecologia e politica e per finire l'alta felicità che quest'anno si terrà in una versione un po' diversa, un po' più ristretta, ma che comunque sarà per noi un importante momento anche per ricollettivizzare questi temi che stiamo trattando qui. Infine, insomma, ricordo ancora la Pre-Cop di Milano come ulteriore momento. Per quanto riguarda le prospettive della carovana, ci sembra importante adesso, insomma, attraversare completamente questi passaggi, appunto, viverla come un momento di inchiesta, auto-inchiesta, di costruzione di relazioni e pensiamo che questa verifica, questa, insomma, discussione collettiva che stiamo mettendo in piedi, poi debba aggiungere in qualche modo a un'ipotesi, appunto, di trovare queste forme generali di un conflitto possibile e magari rincontrarci più in là per ipotizzare nuovi percorsi e nuove esperienze. Grazie mille, Vincenzo. Battute conclusive anche con Mattias, che faceva una proposta nella parte finale del suo intervento, tra l'altro una proposta che si colloca in un autunno, che come abbiamo sentito da Vincenzo è già un autunno importante, perché parte con la Pre-Cop di Milano, poi ricordiamo anche che c'è un percorso per costruire l'ultima tappa del G20, che sarà Roma, ma avremo modo e tempo di parlarne. Rispetto alla proposta che facevi, tra l'altro tu parlavi prima di come è nato questo percorso, siamo ancora in tempo, probabilmente è quella manifestazione dell'8 dicembre del 2018 in Veneto, anticipato in qualche modo i movimenti che sono venuti nei mesi successivi. Come riusciamo a ricostruire o anzi a rafforzare questo tessuto? Appunto, come dicevo prima, penso che sia necessario rafforzarli, perché già appunto con il lavoro che abbiamo fatto con Siamo Ancora in Tempo e anche grazie a Friday for Future, che comunque nell'anno e mezzo di attività prima della pandemia aveva saputo unire i comitati ambientali ai tanti giovani che si erano messi a creare mobilitazioni e assemblee. Quindi appunto si tratta di rafforzare e secondo me ottobre sarà l'occasione migliore, anche perché a settembre, tra l'altro volevo ricordare, mi sono dimenticato prima di dirlo, visto che ho parlato degli zapatisti, ma a settembre avremo anche l'occasione di ospitare la gira zapatista, e che vedrà una delegazione proveniente direttamente dai territori del Chiapas di compagni e compagni e compagno, che verranno a raccontarci proprio qual è la loro esperienza e verranno a diffondere il seme della ribellione nei nostri territori. Penso che sia un appuntamento importantissimo, proprio perché è una di quelle esperienze che dimostrano come l'autotutela e l'autogoverno dei propri territori sia l'unica forma per avere un mondo possibile. Quindi penso sia appunto ottobre il periodo migliore, ovviamente adesso prendiamoci il tempo anche di costruirlo, aggiorniamoci nelle varie mailing list, e invito, tra l'altro, l'appello uscirà dalla piattaforma di Eco Magazine, ma anche da Global Project, due testate giornalistiche indipendenti, che ringrazio anche per il lavoro che fanno all'interno del festival. E poi facciamo in modo di arrivare a Glasgow in una bella delegazione, a Glasgow si trarà l'appuntamento della COP26, dove appunto i potenti come al solito decideranno del nostro futuro rispetto alle questioni del cambiamento climatico e noi sappiamo bene come affrontarlo e facciamo in modo di arrivare lì determinati a dirgli che un altro mondo è possibile e anche come farlo. Grazie a tutti. Io ringrazio davvero tutti e tutte coloro che hanno partecipato, ringrazio per gli ultimi interventi Vincenzo e Mattias, Mattia, Federico, Marzia, Francesco, Marco, Damiano, ringrazio Anna, Danilo, certo Danilo, ci mancherebbe altro, non possiamo non ringraziarlo, ringrazio Anna, Clementina, Nat, Pablo e Claire per la parte tecnica, è stato davvero un incontro interessante, sicuramente saperi, lotte, pratiche, connessioni, sono quelle tag che ci lasciano soprattutto ragionare in termini di prospettive e divisioni. Ci vediamo, il prossimo appuntamento della Carovana è a Ravenna con la Carovana e ricordiamo tutti gli appuntamenti che sono usciti, il 17 luglio ad Arzignano, il 21 e 22 luglio a Napoli per il G20 dell'Ambiente e poi tutta l'estate Valsusina e poi tanti altri appuntamenti. Buona serata a tutti e tutte, grazie ancora.